Stazionari, ricoveri in area medica e pazienti in terapia intensiva a tasso di positività al 5,4% e la fotografia dell'emergenza coronavirus nella nostra regione che deriva dal bollettino delle ultime 24 ore. Nuovi positivi che si attestano a 196 a fronte di 3.605 tamponi molecolari analizzati. I nuovi malati hanno età compresa fra gli 1 e i 96 anni. Sono sei invece le persone decedute ma solo 4 nelle ultime ore. Altre due morti infatti risalgono a giorni scorsi e sono state comunicate solo oggi dalle ASL di competenza. Crescono i guariti, sono 151 in più, ora a quota 26.427. Aumentano di poco gli attualmente positivi, sono 11.286 in totale, 39 in più rispetto a ieri e di pari passo aumentano gli isolamenti domiciliari. Complessivamente le persone costrette a casa sotto sorveglianza attiva delle ASL sono 10.802. Come detto in precedenza restano invariati sia i ricoveri che i pazienti costretti alle cure di terapia intensiva. 443 sono complessivamente i posti letto occupati in area medica mentre 41 sono quelli impegnati nelle terapie intensive dedicate al covid in tutti gli ospedali abruzzesi. Restano quindi al di sotto dei parametri d'allarme i tassi di occupazione delle strutture sanitarie abruzzesi. Nonostante questo da lunedì sarà nuovamente zona arancione dopo una settimana di tregua. L'RT sopra 1 ha spinto la cabina di regia a reinserire l'Abruzzo tra le regioni a media intensità di restrizioni.